Ciao ragazze e benvenuti sul mio canale è arrivato il momento di fare il video recensione per i prodotti Lexira come vi avevo menzionato nel video precedente Lexira è un brand di prodotti cosmetici totalmente organici realizzati con estratto di olio di rosa damascena che proviene da Value of Roses Bulgaria la linea di cosmetici Lexira contiene 16 prodotti che sono completamente organici sono prodotti cruelty free, handmade in uno dei più moderni laboratori della Bulgaria sono privi di parabeni, fragranze artificiali, coloranti artificiali, oli minerali, peg o siliconi altro di presentarsi con un packaging veramente lussoso ed elegante i prodotti dalla linea Lexira hanno un odore grandevole e altri di questi promettono di darci luminosità alla pelle rivitalizzarla, rigenerarla, dargli freschezza e giovinezza iniziamo a parlare di questo set che arriva in questa scatola di cartone che è molto molto pucciosa come packaging io sono sicura che questa è una presentazione PR perché non l'ho trovata in vendita sul sito ma lei contiene 4 creme in mini size e vi parlerò di ognuna in parte prima cremina è Deep Hydrating Hand Butter che mi arriva in formato mini size in 15 mele di prodotto mentre in formato full size contiene 75 mele di prodotto ad un'apertura di 6 mesi il suo prezzo è di 30 dollari è stato realizzato per riuscire a idratare una pelle molto molto secca anche perché lei è creata con oli preziosi e questa crema riuscirà a dare morbidezza alle nostre mani la seconda cremina è Beautifying Body Nectar nel formato mini arriva in 15 mele di prodotto ad un'apertura di 6 mesi mentre il formato full size ha 200 mele di prodotto sempre ad un'apertura di 6 mesi il suo prezzo è di 45 dollari questa crema aiuta a idratare molto bene la pelle del corpo a rigenerarla e levigarla molto molto bene la terza crema è Luxurious Eye Serum nel formato mini arriva con 10 mele di prodotto ad un'apertura di 3 mesi mentre il formato full size contiene 15 mele di prodotto sempre ad un'apertura di 3 mesi e il suo costo è di 60 dollari lei è realizzata con oli molto preziosi per una idratazione intensa nella zona di contorno occhi che fra l'altro è pure una zona molto molto sensibile ultima crema dal kit che ho ricevuto è Luxurious Morning Energy Cream e in formato mini size arriva a 10 mele di prodotto ad un'apertura di 6 mesi mentre in formato full size a 50 mele di prodotti sempre ad un'apertura di 6 mesi il suo costo è di 60 euro questa è una crema molto molto speciale lei riuscirà a rivitalizzare a rinfrescare a donare luminosità a idratare a levigare la nostra pelle e più importante usata mattina lei riuscirà a darci energia per la nostra pelle per tutta la giornata dicono di lei che è meravigliosa e siamo arrivati alla crema Moistruising Body Nectar questo è il formato mini che ha vediamo un po' 45 mele di prodotto ad un'apertura di 6 mesi nel formato full size ha 200 mele di prodotto ad un'apertura di 6 mesi il suo prezzo è di 45 dollari pure nel formato full size arriva sempre in una bottiglietta di questa di vetro con il tappo di plastica e presenta l'erogatore che ci aiuterà ad usare il nostro prodotto questa crema corpo è realizzata solo con oli naturali di altissima qualità per una idratazione molto intensa l'olio di rosa bulgare è antiossidante ha dei benefici antiinfiammatori mentre il burro di karité rende la pelle liscia e morbida l'olio di argan e di mandola stimola la rigenerazione cellulare l'olio di sessamo aiuta la sintesi di elastina e ha proprietà naturali purificatori l'estrato di avena trattiene l'umidità nella pelle e aiuta la sua elasticità il xiliotolo naturale riduce la perdita di acqua transepidermica e ripristina la barriera lipidica cioè insomma veramente solo ingredienti che aiuteranno la nostra pelle di mantenersi la giovinezza per tanto tempo in quello che riguarda il suo profumo ha un profumo delicato di rose che si mantiene per molto tempo sulla nostra pelle mi ripeto chi non ha al cuore questo odore questi prodotti non fanno caso vostro e siamo arrivati pure all'ultimo prodotto Luxurious Rose Water che è un'acqua profumata a rosa arriva in questa scatola molto elegante molto carina con roseline su rosa mentre lei viene in questa bottiglia di vetro con il tappo in plastica questa vi avevo menzionato pure nel video precedente è un prodotto novità nella linea Lexira in quello che riguarda la quantità di prodotto questo è il full size sono 200 ml di prodotto ad un'apertura di 6 mesi e il suo prezzo è di 30 euro come vedete non ce l'ha nessun colore anche perché vi avevo detto all'inizio del video i prodotti Lexira non contengono nessuna fragranza artificiale nessun colorante artificiale tutto è più naturale possibile 100% naturale in quello che riguarda il profumo ragazze ha un profumo molto delicato di rose che non è per niente fastidioso questa volta troviamo un profumo che non è fastidioso questa acqua è capace di rinfrescare idratare la nostra pelle solo con qualche spruzzo io lo uso a mattina dopo che mi pulisco la pelle prima di aggiungere la crema e mi sento veramente molto bene si può usare penso io pure per fissare il nostro trucco ma all'opinione mia è un spreco ma comunque dacci una spruzzata bello bello davvero l'acqua di rosa è un idratante naturale che aiuta a levigare e ammorbidire la nostra pelle la cosa più interessante riguardo a questo prodotto è il fatto che lei riesce a equilibrare il pH e assorbe il sebo in eccesso ma senza causare nessuna secchezza alla pelle pulisce in modo delicato la pelle lo rivitalizza e lo nutre mentre il profumo dei petali di rose può essere un rivigorante per i sensi sempre se qualcuno lo gradisce questo è evidente no? ragazze il video finisce qua spero che sono riuscita a darvi le informazioni più complesse riguardo ai prodotti linea intera linea lexira vi ringrazio per l'attenzione e non dimenticate di be lexirious oggi buona giornata ciao